Inizia domani la campagna di vaccinazione gratuita per l'influenza stagionale sul territorio provinciale della ASL. Ci sono disponibili 54.000 dosi, a cui però se ne potranno aggiungere altre in caso di necessità. La macchina organizzativa della ASL è dunque pronta a mettersi in moto simultaneamente in tutti i punti vaccinali disseminati nel comprensorio. Nella campagna vaccinale l'azienda sanitaria è sostenuta dai medici di famiglia, che danno un importante contributo vaccinando i propri assistiti ultra 65 anni e sensibilizzando la popolazione sulla necessità di proteggersi. Le raccomandazioni sono quelle di sempre, sottoporsi alla vaccinazione per proteggere se stessi e gli altri, ricordando quello che i medici ripetono come un mantra a beneficio della comunità. Il vaccino è l'unica misura sicura ed efficace contro la diffusione del virus. La vaccinazione ovviamente è altamente consigliata per le persone che rientrano nelle categorie a rischio, età pari o superiori a 65 anni, i bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi adulti fino a 65 anni di età, affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acil-sacilidio, a rischio di sindrome di reia in caso di infezione influenzale, le donne che all'inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, gli individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodeggenti, medici e personale sanitario di assistenza, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio, soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e anche categorie di lavoratori personali che per motivi di lavoro è a contatto con animali. Quest'anno per le categorie a rischio, previste dal Ministero della Salute, ci sono anche i donatori di sangue.